che tu bambini, bambini, bambino sembra che stia facendo un favore a me non che sia una cosa naturale, normale bambino, bambino, bambino così la rompi, alza e basta bambino, di bambino allora, questo atteggiamento già ti sta portando sul fatto che mercoledì non si vada a nessuna parte te lo dico io